Il Premier Conte oggi in serata ha detto che non solo le elezioni in Emilia-Romagna non sono un referendum sul governo, ma che insomma va avanti e lui rispetta la fase di transizione dei Cinque Stelle. Sono le cose che ho sempre detto e che sono d'altra parte evidentissime. Questo governo, nato nelle condizioni in cui era nato, o si andava a votare, e secondo me sarebbe stata la scelta giusta, o se no, l'unica possibilità perché questo non si trasformasse nell'assist più incredibile a Salvini, era che questo governo desse una grande prova di sé. Era quasi una speranza impossibile. Però qui ogni settimana c'è una cosa nuova. Era l'unica possibilità perché avesse un senso questa cosa. Questi avevano nella zucca, fatto sto governo in queste condizioni, di partire alla grande, di inventarsi qualcosa, anche sul piano dell'immagine, perché sono senza parola. Sono senza parole, non parlano alla gente, non dicono nulla cosa vogliono, dove vogliono andare, non dicono nulla. Difendono una manovra che non significa assolutamente niente. E allora, è evidente che allora devo dare ragione a Salusti, perché è chiaro che o facevano delle cose significative, o se no, si sarebbe trasformato questo governo in un rafforzamento che sta avvenendo della destra salviniana, non di Berlusconi. È la destra salviniana.